Ciao e benvenuti sull'angolo di Claudia. Allora, come vedete, alterno fra interattivi, shorts e video in cui parlo di determinati argomenti. Questo perché? Perché io applico la tarologia evolutiva, e questo è un canale basato principalmente sulla tarologia evolutiva, ma la applico anche a dei percorsi di evoluzione e consapevolezza interiore. E a proposito di questo, oggi vi voglio parlare di un argomento molto importante, cioè come ti vendi agli altri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso le persone o noi, insomma, abbiamo delle leve motivazionali sulle quali persone magari molto abili o in ambito lavorativo o in ambito relazionale si inseriscono e fanno sì che noi diamo fiducia e quindi si innesca questo meccanismo poi rafforzativo ogni volta che queste persone soddisfano questi bisogni che noi consciamente, ma soprattutto inconsciamente, vogliamo che vengano esauditi o realizzati. Quindi noi ci vendiamo inconsciamente a volte a persone come se fossero realmente, come se realizzassero realmente determinate aspettative che noi abbiamo. Qui entra in gioco ovviamente la consapevolezza del proprio valore e della propria autostima perché è ovvio che se abbiamo queste leve motivazionali per le quali magari noi ci vendiamo perché crediamo appunto di aver incontrato delle persone che meritano la nostra fiducia. È ovvio che bisogna stare molto attenti affinché appunto siano veramente degli incontri validi. Quindi è molto importante che ognuno di noi si chieda quali sono, per cosa io mi vendo, ma non nel senso dispregiativo del termine perché spesso appunto questa cosa avviene inconsciamente. Le cause possono essere tante, vengono poi affrontate nei percorsi di evoluzione interiore, possono essere tante le ferite che ci portano a venderci per qualcosa e può capitare anche che persone che sono ben centrate, siano molto solide, incorrano lo stesso in persone molto abili nel fare questo perché sono persone molto brave in questo. Quindi chiediamoci, chiedetevi per cosa mi vendo, che cos'è che mi fa scattare subito questa forma di fiducia e attaccamento verso un contesto lavorativo o verso una persona appunto in ambito lavorativo o una persona in ambito relazionale. Scrivetemi nei commenti perché così capiamo un po' ognuno di voi qual è insomma che qual è la leva, la leva sulla quale magari possiamo avere delle debolezze in questo. Ciao!